Ciao, mi chiamo Anna, vivo a Torino e sono un'investigatrice. In realtà vado ancora a scuola, perché ho solo 12 anni, ma spesso mi capita di risolvere enigmi o di vivere strane avventure che mi portano a incontrare personaggi del passato e a visitare i luoghi più belli e misteriosi. Con Giorgio ho spento il fuoco di Sant'Antonio a Ranverso, con Chiara ho salvato Napoleone dall'avvelenamento a Stupinigi. Ho attraversato mezza Europa seguendo i passi di San Michele. Ho accompagnato Carlo Alberto in un viaggio nel futuro di Palazzo Reale. Ho dato consigli sui comportamenti da tenere nei beni culturali. Ora sto seguendo le peripezie di un novizio del XIII secolo a Staffarda. E adesso chiedo il tuo aiuto, perché sto per imbarcarmi in una nuova avventura che mi porterà ancora una volta indietro nel tempo, fino al Medioevo. Lì scoprirò tante invenzioni che oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni. Perché non portare un po' di modernità nel passato? Col tuo sostegno potrò passare dalla pagina mignata al digitale. Io sono Giulia e scrivo. Io sono Valeria e dipingo. Grazie. 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 Grazie.